Il DPC è credito che sia il Consiglio di Ministri, con il DPC è immediato, sono state installate le prime due posizioni del Comune di Modigiano e il Comune di Volo Dario. Con il DPC è stato relazionale, si è introdotto in tutti i comuni delle regioni di Liga Romana, Frieto, Liguria, Piemonte, sullo svolgimento delle manifestazioni sportive, sull'organizzazione della vita scolastica di visione di protezione sanitaria presso gli istituti penitenziari, sulla rivoluzione delle modalità di attività. Una volta verificato che la situazione del virus superava anche i geografici facilmente, chiaramente le misure di contenimento geografico hanno perso di loro, mentre hanno assoluto ancora più rilevanza quelle del distanziamento sociale. Vi è che ci sono succeduti dapprima nelle regioni interessate, contemporaneamente nelle regioni interessate, su tutti gli effettuati, vorrei ricordare, si è sempre basata su accurate valutazioni e esigenze di incidere in maniera bilanciata tra benefici e sacrifici un percorso informativo a volte a contemperare da una parte di tutelare le masse adeguate presidi democratici. Per la prima volta siamo stati costretti all'alimentare alcune libertà fondamentali garantite della Costituzione, in particolare la libertà di opinione, le sue varie forme, la libertà finale che ci siamo attenuti nella disposizione delle sue contendenti e le realtà che ci sono stati anche dell'adeguatezza, della proporzionità, dell'intervento. Grazie a tutti! 番